Vivi magari in un paradiso come può essere questo, nell'arcipelago di Madeira? Oppure vivi semplicemente all'estero e hai deciso di tornare in Italia? Quali sono allora le possibilità che da italiano ho di rientrare nel mio paese? Come funziona il rientro dei cervelli e come posso risparmiare sulle tasse? È proprio di questo che parleremo in questo video. Io sono Carlo Alberto Micheli, avvocato e dottore commercialista. In descrizione del video trovi tutti i link utili per poter prenotare una consulenza con me o con i membri del mio staff. Ma veniamo allora a noi, quindi via il cappello, via gli occhiali da soli, decidiamo di rientrare in Italia. Il governo tiene al rientro dei cervelli, ma intende sanare un utilizzo improprio. Sono queste le voci arrivate dai nostri ministeri alla luce dei decreti attuativi sulla riforma fiscale internazionale, che ha modificato il rientro dei cervelli a partire dal 1 gennaio 2024. Quindi fino al 31-12-2023 avevamo un regime. Dal 1 gennaio 2024 le regole cambiano. A chi si applica? In cosa consiste quell'agevolazione? Per quanti anni? A quali condizioni? E cosa succede quando ci sono i figli? Quando acquistiamo un immobile? E vedremo anche quali sono le differenze fra il nuovo e il vecchio regime. Il rientro dei cervelli, che è un'agevolazione fiscale che consente di ridurre le imposte, quindi l'imponibile, la base imponibile sulla quale si pagano le imposte fino al 50%, anche al 60%, vedremo, con un massimo di 600.000 euro, prima differenza fra il vecchio regime, si può applicare ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, la residenza fiscale ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte su reddito, quindi deve essere in Italia il centro principale dei nostri interessi, che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo derivati dall'esercizio di arte e professione. Queste sono le categorie, però attenzione, non è sufficiente, si deve essere cittadini italiani iscritti all'aere, o che comunque hanno comprovati i requisiti di residenza fiscale all'estero, in paesi dove ci sono informazioni, eccetera, quindi deve essere documentato, e si deve essere in possesso almeno di una laurea triennale. Ecco un'altra differenza che c'è rispetto al vecchio regime. Perché è stato modificato questo regime? E perché si parla di utilizzo improprio? Perché sostanzialmente, fra tutte le domande che sono arrivate, la maggior parte riguardavano lavoratori in fragruppo, oppure grandi manager di multinazionale che si spostavano dall'estero in Italia godendo dell'agevolazione. Ma non è questo quello che voleva l'Italia, non sono i 1800 rimpatriati con alte qualifiche, anzi, ben vengono questi, ma erano troppo pochi rispetto ai 24.000. Allora dai che mettiamo i requisiti stringenti. Quali sono allora queste condizioni? Le condizioni sono quattro. I lavoratori, prima condizione, non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e devono impegnarsi a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni. Altrimenti poi le perdino l'agevolazione. Secondo requisito, l'attività lavorativa deve essere svolta nel territorio dello Stato in virtù di un nuovo rapporto di lavoro che si va ad instaurare con un soggetto diverso dal datore di lavoro estero prima del trasferimento e che non faccia parte del suo stesso gruppo. Se tu lavori all'estero con una multinazionale e ti trasferisci in Italia lavorando per la stessa multinazionale, attenzione, cambiano un po' le cose, ma aspetta perché lo vedremo nello schemino in fondo. Non è totalmente escluso, è parzialmente escluso. Terza condizione, l'attività lavorativa deve essere prestata per la maggior parte del periodo d'imposta nel territorio dello Stato. Quarta condizione, i lavoratori devono essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dal Decreto Legislativo 28 giugno 2012 numero 108 per le professioni regolamentate, per i titolari di qualifica professionale superiore e entrati nel primo livello a legislatori, imprenditori ad alta dirigenza, professioni intellettuali, scientifici e di elevata specializzazione, professioni tecniche, della classificazione ISTAT e delle professioni CPI 2000. Comunque, ci vuole almeno una laurea triennale, altrimenti non si rientra più, cosa che non era necessaria prima. Ci sono importanti agevolazioni anche per i lavoratori con almeno un figlio o che abbiano almeno un figlio anche adottivo durante la vigenza del beneficio. Quindi, se hai almeno un figlio o se il figlio ce l'hai durante la vigenza del beneficio, quindi durante 5 anni, si passa dal 50% di esenzione al 60% di esenzione. Quindi, si pagano le imposte solamente sul 40% del reddito imponibile. Altra agevolazione è se nella vigenza del periodo si acquista un immobile. Allora, in quel caso, si sommano gli anni. Si passa da 5 anni a 8 anni di agevolazione fiscale. Quindi, il 50% di imposte è meno, a volte anche il 60%, non più per 5 anni, ma per 8 anni. Allora, vedete come effettivamente le agevolazioni siano molto importanti, ma, ahimè, siano anche stringenti. Per capire meglio, se vi siete già, diciamo così, interessati all'argomento e vi è stato cambiato il regime nelle more proprio delle vostre decisioni, andiamo a vedere, quindi con uno specchietto riepilogativo, quali sono le differenze. Gli anni di resilienza all'estero, prima di poter usufruire dei regime, con il vecchio regime erano 2. Nel nuovo regime, invece, sono almeno 3 periodi di imposta di essere stato residente all'estero. attenzione, se la prestazione è resa in favore dello stesso soggetto estero, diventano 6 i periodi di imposta che deve essere stato fuori, oppure 7 in caso del soggetto appartenente allo stesso gruppo. Gli anni di resilienza in Italia devono essere 4 anni, mentre prima devono essere, bastavano 2 anni. I redditi agevolati, come abbiamo detto, sono il reddito di lavoro dipendente e assimilato, il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arte e professione, viene meno il reddito di impresa dell'imprenditore individuale. C'è anche il limite che prima non c'era. Prima non c'era un limite di reddito anno agevolabile, invece, in questo momento, il limite è 600.000 euro. Limiti di 600.000 euro oltre il quale non c'è più l'agevolazione. Mentre le agevolazioni prima erano reddito imponibile al 30%, reddito imponibile al 10% sul trasferimento a Sud Italia, ora l'agevolazione riguarda reddito imponibile al 50%, quindi si pagano imposte sul 50% del reddito, oppure si pagano imposte sul 40% del reddito nel caso del figlio. Ecco, avete visto come cambiano un po' le situazioni? Io spero che questo video vi sia stato utile, quindi rinnovo l'iscrizione ad iscrivervi al mio canale YouTube, lasciare un like, un commento, perché no, condividerlo con gli amici e a cliccare nei link di iscrizione al video per avere maggiori informazioni e magari un contatto con quelli che sono i miei servizi. Da Madeira è tutto. Io mi riprendo cappellino di paglia, occhiali da sole, chiudo il computer e ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!